...purtroppo e ancora tanti auguri a Francesco Pirocco. Partiti in Mente, Boudemeyer, Cotasco e Pizzola Fonco, Cotasco e Pizzola Fonco, Cotasco e Pizzola Fonco. Vediamo, vediamo. Nell'ordine passati in Pizzola Foncocellola, Mente, Boudemeyer, Cotasco, Pizzola Fonco, Cotasco e Pizzola Fonco, Cotasco e Pizzola Fonco. Moliveggio, vince a mano. Davanti c'è David Metz. Con... il 301, poi Vandermeier. Vandermeier, Vandermeier, Pizz, Totasca, Zaffetti, Puzzi. Così nell'ottimità, quindi mette a Vandermeier, Pizz, Totasca, Zaffetti, Puzzi. Il giro sull'accuratore che mette sulla rettilina d'arrivo. Aveva un margine di 1 e 2 su Vandermeier a mezza. Eccolo che passa adesso. Corso. 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 Soprenti ha superato la scuola di Piazza E' arrivare alla chiesa del terzo giro Sempre davanti il francese del Merde Per il terzo giro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.